guarda questa fila di secchi le donne che vedi sono in coda dalle 4 del mattino è molto difficile riuscire a procurarsi l'acqua a volte camminiamo tutta la notte per cercarla quando arriva presto riusciamo a prenderla tutti ma se arriva tardi il gestore della fontana riferisce a dare la precedenza ai venditori ambulanti con i barili la gente qui cerca l'acqua come loro spesso non la trova e noi donne soffriamo più degli altri il burkina il nostro paese soffre molto per la mancanza d'acqua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti